Ah, oh, leggendaria! Oh, 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 un'altra leggendaria, non si credo! Hello guys, Ranjan here! Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale, siamo su Hearthstone e oggi si va di rissa! È uscita da poco, teoricamente, portali senza frontiere. I più potenti maghi di Dalaran hanno esagerato aprendo centinaia di portali. Scegli una classe, quindi usa alcune magie e una valanga di portali per sconfiggere i tuoi avversari. Ok, signori, io vi dico che sto giro ce la facciamo col prete, perché il prete ci piace. Ok, signori, siamo contro un mage, abbiamo un sacco di tessitela in mano. Oh, forma d'ombra. Ok, ce la tiriamo così la mano, signori, scusate, stavo pensando. Ce la tiriamo così perché, se come ho io, a meno che ogni mazzo non sia diverso, se come ho io, anche lui ha tutti i tessitela, infliggere due danni può tornare molto utile, molto utile. Vediamo, 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 signori. It's good, it's very good. E se passasse, cioè, se andasse avanti lui, insomma, saranno tutti i tessitela, bro, dagli. Ok, si gioca a un bellissimo tessitela. E passiamo, siamo contro un mage. Mage che potrebbe rivelarsi abbastanza fastidioso per il suo potere eroe. Salve, salve, amico. Bene, bene, allora, vediamo, vediamo. Giocare a un tessitela, immagino. Ok, ok. Ah, non abbiamo un altro tessitela. Va bene. Facciamo così. Uuuuh, gazzrilla! Bello, bello! Adesso però non so quanto convenga fare la forma d'ombra. Perché possiamo curare la gazzrilla. Eh, signori. Eh, eh. No, silenziamo un servitore nemaico. Il tuo potere infligge due danni se sei già... Vabbè, dai. Io lo farei, quasi quasi. Vediamo come va con lo shadow. Fiamo sta partitina così. Carina. E vediamo, signori. Allora, abbiamo un raptor coda rossa. Interessante. E poi abbiamo gazzrilla. E una bomba fotonica che può sempre tornare utile. Perché se riempiamo la board di bombe fotoniche, cioè di tessitela, con la bomba fotonica può essere interessante. Abbiamo tante carte all'ombra, ma anche tante carte a noi. Amico mio, vieni qua. Ci prendiamo l'amico Fritz e glielo sfintiamo addosso. Bene, se passa. Signori, ci stiamo riempendo la mano di belle carte. Dobbiamo iniziare così. Il prossimo tour abbiamo cinque di mana. Potrebbe essere il caso di giocare raptor più cobra e iniziare a far mettere un po' sotto pressione il nostro armito. Cavolo, le palle di fuoco però non ci piacciono. No, proprio no. tessitela che può rimanere lì dove... Benissimo. Bene, bene, bene. Iniziamo a giocare a mostri un pochino più grandi. Non troppissimo, però un pochino più grandi che comunque possono metterlo in difficoltà. Abbiamo comunque un potere eroe adesso più forte del su, in quanto di base farà un danno... Cioè farà due danni invece che uno. Che fai? Ok, giustamente. E passi. E passi. Bene, bene, bene. Allora. L'attacco di un servitore diventa pari alla sua salute. Allora, signori. Buono. Passiamo. Prossimo turno, Gazrilla. E poi lo voglio vedere. Perché contro Gazrilla... E vi ricordo che abbiamo sempre una bomba fotonica in mano che può essere interessante. Molto interessante. Te ne ho uccisi un po' di tessitela, amico mio. Te ne ho uccisi. Dovresti avere qualche mob un po' più grosso, no? Bravo, bravo. Uccidimi uno dei... Un tipino. Bravissimo. Bravissimissimo. Abbiamo anche due carte. No prob. No prob. E via di Gazrilla! Oh! Ah ah! Bene. Va bene. Adesso ci divertiamo. Oh, sì. Mmm. Allora. Gli potremmo fare due danni. Potremmo mettere l'amico qui, patriarca Manto Argentio. A cui si chiama? Non me lo ricordavo. Bene, bene. Potremmo mettere appunto il nostro tank. Potremmo fare diverse cosine. Bene, bene, signori. Not bad. Oh, la gallina. Bella la gallina. Ci piace. Allora. Io direi di fare così. Di fare così. E... Togliamogli quel tipo che mi sta antipatico. Tanto abbiamo 12 danni. Un 12-8. Se hai... Amico mio. Ascoltami. Se hai una palla di fuoco, è il momento di spararmela. Non su gazzurilla. Carina, mexena. O maexna. O mexna. Non so mai come... Non ho mai capito come si dice, signori. Ho sempre chiamata mexena. Però, teoricamente, se è latino, si legge mexna. Mexena sono anche meglio. Mexna. Andiamo per mexna. Io direi che ho vinto. No, ma... Per farvi capire. Eh? 24 più 6 a casa mia fa 30. Auguri. È stato bello. Bene, signori. Abbiamo vinto. Andiamo a spacchettare. Perché io sono interessatissimo. A vedere cosa ci può uscire. Abbiamo ancora delle cosine. Uh! Doppio spacchettamento. Perché abbiamo anche 100 monete. Bona così. Signori. Una bustina di Gran Torneo. E una bustina classica. Appena vinta. Andiamo a spacchettare la bustina classica. Oh! Leggendaria! Oh! Non sdormo! Ok! Ok! È una merda. Però è una leggendaria. Che culo! Che culo! Ok! Ok! Qualcosa di... Qualcosa di... Di... Dell'amico Fritz. Oh! Oh! Un'altra leggendaria! Non ci credo! Non ci credo! Signori! Due pack! Due leggendarie! E andiamo! Ha ha! Signori. Detto questo. Ho avuto un pochino di culo in questo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ed enjoy the carriere secondo voi. Lasciate tanti bei mi piace per lo spacchettamento. È hyper hard. Bye! Ciao!